Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi L'infinito è pronto per essere scoperto, viaggia dalle profondità più remote dello spazio per svelare un mistero irresistibile al centro della galassia La galassia, adesso ricominzo L'infinito, no aspetta L'infinito è pronto per... No ma dai Però la prima volta mi sa che non andava bene L'infinito è pronto per essere scoperto Viaggia dalle profondità più remote dello spazio per svelare un film No 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 Dai Il 19 agosto cominciamo a parlare anche di motori Perché per P&C L'11 ottobre torna Lara Croft Una delle mie preferite Veghiamine, sì In assoluto If you know what I mean Con Rise of the Doom Raider 20 year celebration 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 No va bene Celebration Con Rise of the Doom Raiders celebration Nooo 20 year 20 year Un bec... Can't help Can't help Con Rise of the Doom Raiders 20 year celebration Celebration I either Madonna rias Celebration Celebration e ho capito me si vede in faccia così dai non mi si vede in faccia va bene ok pronti ciao a tutti ragazzi come va ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao a tutti bentornati un nuovo video no aspetta comprende 16 squadre di tre caratteri si caratteri comprende 16 squadre di 3 caratteri personaggi più ok 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 e personaggi 3 personaggi ancora più ridere comprende 16 squadre da 3 personaggi non mi fa ridere comprende 16 squadre da 3 personaggi più un sottoboss e un post fin un post ok comprende 16 squadre da 3 personaggi comprende no comprende 16 personaggi non è vero non è vero sì che è vero è 16 squadre non è 16 personaggi ma lo dico io comprende comprende 16 squadre da 3 personaggi più un sottoboss e un boss finale sentite questa musica il 27 ottobre uscirà finalmente dragobox in averse 2 per segnale nooo ma come era così era spettacolare ancora un altro titolo Ancora un altro titolo uscirà il 16 settembre Stavolta si tratta stravolta Ancora un altro titolo per il 16 settembre Stavolta Ancora un altro titolo per il 16 settembre Ancora un altro titolo in uscita Non ti sto vedendo Non ti sto vedendo Ancora un altro titolo in uscita Il 16 settembre Ma perché mi viene stravolta? Ancora un altro titolo in uscita il 16 settembre Stavolta parliamo del 3DS e per riguardo ancora un altro titolo per il 16 settembre ancora un altro ancora un altro titolo in uscita il 16 settembre stavolta parliamo di 3ds con il settimo episodio della serie Dragon Quest si cari ragazzi i titoli più attesi più succosi del mese di febbraio per iabiano mn va ragazzi belli abbiamo annunciato adesso i titoli più importanti più succosi in uscita per febbraio perché non vai avanti volta così ho capito a viso scusa ma vabbè i titoli più attesi succosi più caldi insomma quelli che fanno più porca troia ma che cazzo stamattina veramente su fami seri il 21 febbraio invece abbiamo un'esclusiva microsoft quindi siamo di 24 ps4 un'esclusiva microsoft ps4 ma giocabile solo su nintendo 3ds madonna ciao ragazzi ciao ragazzi siamo veramente euforici abbiamo appena superato il traguardo dei centri iscritti i primi centri iscritti ragazzi sia qui sia come likes su facebook sulla nostra pagina ufficiale quindi vi ringraziamo per questo piccolo traguardo che per noi è già un inizio insomma non credevamo nemmeno di farne 5 di iscritti se dobbiamo essere insomma così schietti però goccia a goccia si riempie la botta e quindi la nostra botta spero si riempia quanto prima si tranquillamente molto piano ragazzi noi vi ringraziamo perché già ci seguite in tanti ci auguriamo comunque di crescere col tempo di portare sempre più contenuti che intrattengano sempre più persone insieme di creare insomma tutti insieme una bella community fra noi e voi perché ci fa veramente tanto tanto piacere portare la nostra passione videoludica su youtube tramite il nostro canale quindi io spero che questo video di bloopers vi sia piaciuto come speciale dei primi centri iscritti sul canale vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi e niente noi vi diamo appuntamento al prossimo video al prossimo video ciao ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ok pass